E' la forza di tutta questa squadra, di questo gruppo che non ha mai mollato, non ha mai, come diciamo noi, tirato indietro le braghe. E' la bellezza di questa squadra, abbiamo giocato una partita perfetta, quello che non c'era riuscito in gara quattro e questo dobbiamo essere solo che contenti. Quando è caduta l'ultima palla si è tolto un peso, io ho vissuto questi giorni con molto nervosismo, pensavo che questo scudetto potesse sfuggirci, invece no. Invece no perché siamo fantastici e quando abbiamo buttato giù l'ultima palla mi sono svuotato e l'emozione ha preso il suo vento.